Na 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 Fate l'ultimo voi Na 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 Molte grazie La natura è un'attima Grazie, grazie Gugliartico, grazie ragazzi, grazie Morgan Grazie a Frank, grazie a Marco Grazie Morgan Grazie Grazie, avete sforzato tutto ragazzi un pezzo nuovo un pezzo nuovo grazie 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 la decisa mi piacerebbe capire chiederti a che ti spiega c'è un tuo mito nella televisione nei costruttori visto che stiamo su Rai 3 io lo voglio dire io sono una gruppi di Milena Gavanelli grazie un saluto alla Gavanelli volevo dire Milena io ti amo perché mi ricordi la zia figa quella che non si è mai sposata che vive a Berlino vendendo statuette di dittatori fatte con le latine della gazzosa che la vedi due volte all'anno però a Natale parli solo con lei d'ora in poi chiamatemi Milenax Milenax perfetto allora Milenax è arrivato il momento il palco sta girando loro sono giovanissimi arrivano da Colonna e rappresentano un pezzo importante per la scena indie rock italiana al primo maggio lo Stato Soccione